Cambiamo argomento, hanno sfidato il freddo e si sono ritrovati in piazza Muzzi alcuni proprietari e gestori dei locali della Movida Pescarese in protesta contro la chiusura a mezzanotte. Lo prevede la legge, hanno detto in coro, ma la politica locale può e come risolvere questo disagio, altrimenti sarà il funerale della Movida. Nel mirino della protesta c'è anche l'ordinanza del sindaco Carlo Masci che ha prorogato al 31 marzo la chiusura a mezzanotte delle attività dalla domenica al giovedì. I gestori dei locali sostengono che le restrizioni penalizzano le loro attività e mettono a rischio i loro investimenti. I manifestanti si appellano ad ordinanze che permettano una elasticità di orari pur nel rispetto delle esigenze di tutti.